Greco è il classico, matematica allo scientifico, inglese è il linguistico e i problemi per gli istituti tecnici. È stato un altro giorno d'esame per oltre 500.000 studenti che questa mattina, alle 8.30, hanno affrontato il secondo scritto compreso nelle quattro prove di maturità. I ragazzi hanno dovuto dimostrare di conoscere una delle materie più importanti del loro indirizzo di studi e che varia in base alla scuola frequentata. Anche le ore a disposizione per completare la prova erano diverse a seconda del liceo, istituto tecnico o professionale scelto. In comune invece lo stato d'animo dei ragazzi, infatti ansia, tensione, stanchezza, la fanno da padrone in queste giornate di intenso studio. Una grande concentrazione dunque che dovrà proseguire fino a lunedì per la terza prova d'esame e poi fino agli orali fissati in date diverse nei vari plessi scolastici. E Aristotele è stato scelto per la versione di greco, com'è andata? Ah, era molto lunga e difficile. Come ti è sembrato comunque? Fattibile o sei riuscita? Speri di aver portato a casa un buon risultato? Speriamo perché era molto difficile rispetto anche a quelle che facciamo di solito. Che cosa vi aspettavate che uscisse? Platone, assolutamente. Eravate tutti convinti? Sì, sì, anche la prof ha detto esce platone, sono sicura e invece c'è Aristotele. È toccato Aristotele, com'è andata? Dai, bene, dai. Progetti per il futuro? Adesso sì, inizio a studiare medicina e provo ad entrare. Bocca al lupo. Crepi. Ciao, che scuola stai frequentando? Sono al liceo scientifico Torelli. Quindi matematica oggi. Matematica come seconda prova ovviamente. Oggi i quesiti erano abbastanza facili, cinque si trovavano facilmente, i problemi un po' più tosti, soprattutto quello applicato alla realtà, mentre abbiamo optato per quello più teorico, ma anche quello non era facilissimo. Però si faceva. Tutto sommato è andata bene? Sì, è andata bene direi. Oggi tu che cosa farai? Come trascorrerai questa giornata? Ritornerai a casa a studiare o un po' di relax? Un po' di relax. Prima di lunedì, terza prova, ancora c'è un po' di tempo, ci riposiamo. Ragazze, di che istituto siete? Liceo linguistico. Anche voi siete uscite in anticipo? Non neanche tanto. Le due, la scadenza sarà per le tre, quindi più o meno ci siamo. La prova che avete dovuto affrontare ovviamente lingue. Sì, era lingua inglese. Fattibile? Sì, era fattibile. Quella che ho scelto io era sull'immigrazione, era semplice da comprendere, meno male. Anche le domande erano molto mirate, non c'erano molte ripetizioni rispetto ad altre prove. C'erano domande precise. Ma è andata bene. Tu invece che cosa hai scelto? Hai scelto la stessa prova, sì. Sì, sì, no, è andata bene. Era molto semplice, comunque attuale il tema, quindi sì, sì. Per lunedì invece siete preoccupate? Sì, molto. Quella un po' più preoccupante. Sì, quella più tosta. Ragazzi, anche voi dello scientifico? Sì. Come pensate sia andata oggi? Beh, non lo so sinceramente. Spero bene. Ho provato ad affrontare tutti i quesiti e i problemi, però si vedrà poi dopo quando sarà ora dell'orale. Certo. A te invece speri bene, giustamente? Io spero bene, però anche io ho fatto i quesiti, li ho fatti praticamente tutti, ho affrontato, diciamo, metà problema, però era parecchio difficile, sì. I professori come sono stati, interni, esterni? Vi hanno aiutato in qualche modo oppure no? Ma aiutato no, però diciamo che forse hanno chiuso un po' un occhio. A settembre? Io a settembre sono già entrato all'università, quindi sono già dove andare. Intanto si pensa al quizzone, per cui lunedì? Sì, intanto non è finita, purtroppo, diciamo. Sto weekend si studia. A te com'è andata? Spero bene, comunque l'ho finita in realtà presto, secondo me, poi ho avuto molto tempo per ricontrollare. Oggi andrei al mare o tornerai a studiare? Io in realtà tutti i giorni sono andata. Te la prendi con tranquillità? Sì, con filosofia. Un'altra ragazza che è appena uscita, che scuola frequenti? Liceo classico. Anche tu, quindi Aristotele? Aristotele. Come mi è sembrata, la prova fattibile o abbastanza difficoltosa? Abbastanza difficoltosa, molto complessa, molto lunga e difficile. Siete riuscite ad aiutarvi anche tra voi? No, era impossibile. Era davvero difficile, però dai, qualcosa sì. Un boccato poco. Grazie.